Il presidente operaio, ce ne abbiamo noi, ce ne abbiamo noi. L'ultima scopata, guardate Teresa che è come Berlusconi, che scopa sempre, giorno e notte. Il presidente è il terzo scopato. La terapia scopata. La terapia scopata. La notte mi fai bai. La tua migliore esibizione dell'estate. Ecco, Francesco e Agostino che si accingono a scopare insieme. Che romantici. Ecco che Francesco continua. Ti ha proposto una cosa in draga. No, tu, la scopa e la paletta. Lei ha un obiettivo Francesco, giusto? Francesco vuole sempre comprare. E poi, diciamo, ripiega su di me. Agostino mi rifiuta. Prima chance, seconda chance. Io a Marcella che gli ho detto. Francesco, magari, non ti ispira. Ma come sempre, ce l'ha un po' chiusa, capito? Ma perché sei più grande, più maturo e più esperiente? Si, non ho dubbi. No.